Allora, paziente che si è russato la spalla posteriormente, il primo episodio ce l'ha avuto abbastanza recentemente, poi ha avuto un altro episodio. Di solito ci si russa la spalla anteriormente, la testa dell'aumero si russa anteriormente, in questo caso posteriormente. Il cassetto posteriore... Allora, hai visto? Quindi russa la spalla e la spalla rientra. Ok, a posto.